Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video che questa volta vi darà degli spunti creativi in più perché è in collaborazione con la mia amica Selena del canale DIY by Selena ed entrambe vi faremo vedere come realizzare dei semplicissimi chokers, le collane aderenti che sono tornate di moda da diverso tempo. I nostri chokers saranno entrambi facilissimi ma avranno degli stili diversi. Quello di Selena avrà uno stile molto raffinato ed elegante, il mio invece sarà un choker set cioè un set composto da una collana ed un bracciale entrambi perfetti per un look estivo ed ispirato alle sirene. Non aggiungo altro e andiamo subito a vedere che cosa ci servirà. Del merletto celeste o blu o azzurro, una ciotolina, pinze per hobbistica, nastro adesivo, forbici, colla vinilica, pennello, finali per cordini, chiusure, anellini di congiunzione e tanti glitter e paillettes abbinati al look che stiamo realizzando. Per iniziare partiamo proprio dai glitter e versiamoli un po' per ogni tipo e colore nella ciotolina e poi mescoliamoli tra loro. Successivamente dopo aver tagliato due pezzetti di merletto nella giusta misura adatta al nostro collo e ai nostri polsi, con il nastro adesivo incolliamoli sul nostro piano da lavoro per fermarli e non farli scivolare via mentre li cospargiamo con il mix di glitter realizzato poco fa unito alla colla vinilica. Spennelliamo e lasciamo che il composto si asciughi bene e quando il tutto sarà pronto guardate che risultato scintillante che abbiamo ottenuto. Poi aggiungiamo su ogni estremità dei merletti, finali per cordini e gli anellini di congiunzione e su un'estremità per ognuno anche la chiusura. Il nostro giochersetto è pronto ma manca ancora un piccolo dettaglio marino, infatti ho pensato di aggiungere in ognuno dei due accessori un piccolo ciondolo a forma di conchiglia che andrò a mettere centralmente e vi lascio anche il link per realizzare gli stessi ciondoli che sto utilizzando io. Ed ora sì che abbiamo realmente finito e possiamo finalmente sfoggiare il nostro nuovo choker set che darà un tocco brillante, marino e da sirena al nostro look. Come avete visto è facilissimo realizzare degli accessori così quindi spero tanto che vi possano piacere e che li rifarete anche per voi. Non dimenticate di passare a vedere il bellissimo choker che ha creato Selena e non dimenticate anche di iscrivervi ai nostri canali. Vi mando tanti bacioni ed aspetto tutti i vostri commentini. Ciao ed a prestissimo!